Ho finito Boris Quattro e volevo farvi sapere la mia, davvero divertentissimo, è una stagione che non si tardisce per nulla anzi, è un ritorno molto gradito, poi tra l'altro la parte che omaggia è una dedica molto profonda a quei membri che facciano parte del cast che oggi non ci sono più, quindi è stato anche commovente da quel punto di vista, la consiglio vivamente un sacco. E qui Scharchelle e alla prossima!